Il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, rilancia le iniziative e i concorsi rivolti agli studenti delle scuole piemontesi. L'obiettivo è quello di supportare le nuove generazioni, ampliando ulteriormente l'offerta formativa di un progetto che nell'ultima edizione ha coinvolto oltre 18.000 ragazze e ragazzi del Piemonte. Rinnoviamo indubbiamente con maggiore enfasi e maggiore disponibilità economica rispetto alla legislatura passata, c'è stata l'ufficialità e la volontà da parte dell'Ufficio di Presidenza e direttamente del sottoscritto di voler ampliare sempre di più i bandi e i concorsi dei comitati e dei consulti della Presidenza del Consiglio regionale. C'è la volontà di ampliare la platea di possibili candidati, indubbiamente numeri che già nella scorsa legislatura, non dico fanno rabbrivi dire, ma sono importanti. 18.000 studenti e 700 docenti sicuramente sono una realtà per il Piemonte importantissima. Non dico dobbiamo raddoppiarli ma dobbiamo avvicinare sempre più gli studenti alle istituzioni e alla politica. Come Ufficio Scolastico regionale esprimiamo tutto il nostro apprezzamento e ringraziamento al Consiglio regionale per queste iniziative che sono state presentate oggi perché rappresentano un importante, un significativo aiuto per le scuole nella realizzazione dei molteplici compiti a cui oggi sono chiamate. Oggi le scuole devono occuparsi di tanti aspetti che una volta non facevano parte del curriculum formativo, quelle che chiamiamo le varie educazioni, l'educazione alimentare, l'educazione ambientale, l'educazione alla salute e importantissima l'educazione alla cittadinanza, per la quale queste proposte rappresentano veramente un aiuto e un contributo significativo. Toccano temi come la legalità, la cittadinanza e soprattutto la conoscenza dall'interno delle istituzioni che è un aspetto estremamente formativo e importante per i nostri ragazzi che saranno i cittadini di domani.